eccoci qui buonasera ciao ornella buonasera tutti buonasera benvenuti benvenuti a casa a casa italian bookshop e sì un'altra serata nella nostra libreria virtuale serata in cui parliamo di un libro che che ha al centro la cucina e diciamo così la passione che brucia tra i fornelli che a fuoco lento di elena dall'orso e francesco nicchiarelli benvenuti qui con noi ce ne parlano in una chiacchierata con valeria vantaggi giornalista di la terra ciao valeria benvenuto allora è lena dall'orso ha lavorato tanti anni nell'editoria giornalista si occupa di cultura e società e francesco nicchiare agli ingegnere di roma ma evidentemente con altre passioni significative come la cucina e la scrittura e insieme sono autori di signora mia e che diventerà anche una serie tv se non sbaglio e a fuoco lento di cui appunto parliamo stasera benvenuti grazie grazie a te allora veramente allora io vi ringrazio vi ringrazio per questo libro che io devo dire appunto io voglio ringraziare martina che me la perché me l'ha segnalato oltretutto penso sia il bimbo chiamiamolo così di francesco che frequentava la libreria non mi sembra martina mia figlia mia figlia ok salutiamo ciao Laura sì 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 Laura Laura bellissima ragazza sì sì che ammiravo sempre quella vestita sempre in una maniera bellissima devo dire ok al di là di queste cose mie allora io vi voglio innanzitutto ringraziare vi voglio ringraziare per questo libro perché mi ha regalato veramente dei momenti di spensieratezza mi ha regalato veramente dei momenti di leggerezza del cuore che va benissimo perché stiamo tutti stiamo arrivando all'inverno stiamo arrivando tutti in una serie siamo tutti un po stanchi un po provate tutto questo per cui leggere qualche cosa che ti regala il sorriso perché come ho detto quando l'ho lanciato su instagram voi parlate delle cose che di cui io amo parlare il cibo e l'amore sono proprio due argomenti che mi prendono proprio tantissimo e devo dire i personaggi che ci sono in questo film in questo film mi sembra già un film penso che lo sono già visto in questo libro sembrano delle persone di una sapete quelle persone delle commedie dell'arte queste madamine questa le personaggio carla non sembra è veramente qualche cosa mi ricorda una delicatezza che entra cammina una piccola fata che perché ha una sua ha una sua sensibilità ma soprattutto ha una sua leggerezza che le riesce a far vivere tutta una serie di situazioni di cui poi poi parlerete non parlerete le leggeremo nel libro con veramente un senso quasi un po come se io me la immagino quasi che non tocca per terra quando cammina lievissima leggera evanescente ma nello stesso tempo assolutamente presente è un personaggio femminile che a me è piaciuto tantissimo forse perché ha queste caratteristiche ha la capacità di innamorarsi e la capacità di cucinare e queste sono due grandi cose io voglio leggere proprio il prologo per lasciare poi a voi altre letture a vi avverso tutti quando leggete questo libro preparatevi che vi viene voglia di mangiare poi se siete a dieta quelli sono problemi vostri però io mi avverto e bisognerebbe metterlo qui si ingrassa un paio di chili perché soprattutto quando poi leggerete del pane io una pagnotta poi me la sono andata a prendere me la sono mangiata proprio perché era bellissima allora pane burro e alici una delle cose mie del cuore proprio gianni l'ho vista mi sei presentata sotto casa verso le dieci e è voluta salire ecco lo sapevo no non hai capito abbiamo parlato un po siamo andati al mercato poi siamo tornati e abbiamo preparato qualcosa di semplice delle tartine con burro e alici e uno spaghettino ho anche aperto un bianco fresco siamo stati bene l'ho accompagnata alla stazione ed è tornata a milano tutto qui stop tutto qui a me sembra non finisca affatto qui vi siete scritti per oltre un anno e adesso cosa farete? niente niente quello che ci viene meglio cuciniamo e con questo lascio a voi la parola allora io farei prima un brindisi a questa terapia e a questo libro grazie a tutti assolutamente evviva cin cin allora noi vi lasciamo e ci vediamo dopo grazie mille intanto grazie a voi allora prendo la parola io facciamo che vi presento no intanto a chi ci ascolta volevo dire che stiamo parlando di a fuoco lento però che è un libro che vive a sé e si può leggere partendo da qui ma è anche una sorta di seguito di signora mia non so se si vede così medio e sono due libri appunto autonomi ma dove finisce signora mia inizia inizia a fuoco lento due libri a cui io sono molto affezionata ne ho visto la genesi e che come diceva ornella prima sono sembrano davvero una serie tv ce le immaginiamo io mi aspetterei vorrei il terzo il quarto il quinto perché uno si affeziona i personaggi i personaggi di signora mia sono francesca e maria in un certo senso i protagonisti quelli di a fuoco lento sono francesca e fabio in realtà con delle sorprese in mezzo c'è un tir rouge bellissimo una storia di amicizia di relazioni di di amore e appunto come diceva ornella tantissimi consigli culinari assolutamente io ho preso tipo l'artusi ho preso nota di ricette e segreti ma la mia prima domanda è come avete delineato i personaggi nel senso io conosco più Elena meno Francesco e Francesca in alcune cose assomiglia a Elena però non so come si costruiscono i personaggi come avete fatto avete pescato da voi dalle vostre storie avete pescato dagli amici da dei libri vi siete fatti ispirare da da chi da da cosa io penso che sia interessante sentire Francesco poi il mio un po' è più facile per me va bene io i due personaggi i due protagonisti secondo me si definiscono attraverso la loro dialettica si scoprono attraverso le differenze lui ha una forma di ansia che si esprime poi attraverso la cucina e quindi lui e questa è una cosa nella quale francamente mi riconosco lui genera dall'ansia genera un'energia fatta di calorie che sono poi calorie spesso di animali calorie animali è grasso animale può anche essere grasso di pesce ma insomma lui attraverso queste trasformazioni secondo me trova un momento di pace questo è un un dettaglio come dire che riguarda il personaggio come abbiamo fatto a scoprirlo semplicemente raccontando l'esperienza della cucina io mi sono accorto a un certo punto di una cosa di me ma cioè fabio sei tu no non proprio ma no no non al cento per cento ma ha delle cose nelle quali mi sono riconosciuto e che se a mio avviso non ho tirato fuori consapevolmente ma raccontando la cucina di fabio la cucina è un linguaggio di quest'uomo e che si esprimeva così anche per farsi capire dalla donna che stava dall'altra parte ma come li avete costruiti il personaggio femminile l'ha costruito Elena e tu quello maschile è stato un lavoro fatto insieme come li avete proprio delineati il loro carattere il loro i loro gusti Elena tu forse tu sì sì allora il in realtà c'è tanto di noi come credo ci sia tanto degli autori di qualunque libro anche più importante del nostro nei loro personaggi e c'è tanto di noi ma non necessariamente di autobiografico del nostro carattere ma anche dei nostri amici delle persone per quanto mi riguarda che incontro per strada che per qualche motivo attirano la mia attenzione sicuramente nei personaggi femminili che mi appartengono un po' di più di quelli maschili che sono un po' più appannaggio di Francesco ci sono anche tante mie amiche non una in particolare ma tanti tratti dei caratteri delle persone con cui mi incontro mi scontro ogni giorno che vanno a formarne una nuova una tutta nuova che è una storia tutta nuova da raccontare ed è buffo quello che diceva Francesco prima cioè lui ha scoperto delle cose di sé tracciando il personaggio e non viceversa cioè non ha messo se stesso nel personaggio ma poi ci si è ritrovato e un po' questo è successo anche per Francesca Francesca mi assomiglia nel non generare calorie lei genera per le sue ansie per le sue nevrosi genera piatti genera piatti che poi mette nei tupperware e questa mania un po' di controllo della situazione da madre o super organizzata e super stressata forse è stata anche un po' mia per cui ecco ma questi personaggi cambiano su signora mia avevano un rapporto a distanza i due protagonisti le due protagoniste a fuoco lento si incontrano i protagonisti hanno un rapporto vero si scambiano appunto spazi come sono le relazioni secondo voi cioè come avete costruito anche questo passaggio tra una relazione a distanza e voi che avete scritto un libro a distanza perché ricordiamo che Elena vive a Milano Francesco a Roma e non è facile scrivere un libro a quattro mani con n chilometri di distanza questo rapporto che avete sviluppato un rapporto a distanza prima fatto solo di scambi di messaggi e mail poi un rapporto invece fatto di incontro fisico chi comincia? vai allora quello che appare facile digitare in Whatsapp in una mail risulta molto più difficile in un progetto reale loro due sono in perfetta sintonia culinaria quando sono amici via mail e Whatsapp in due città diverse entrano in conflitto direi potremmo chiamarlo ideologico cioè di modo di essere ma anche di approccio proprio alla cucina quando devono cucinare insieme perché nella storia forse è il caso di dirlo sono due persone che nella storia finiscono per condividere un progetto in un bistro di cucina però questa condivisione in realtà appunto è dialettica quindi il passaggio dal virtuale al reale il passaggio da due persone che hanno un rapporto scritto a un rapporto reale secondo me è la vera scommessa riuscire a cucinare realmente insieme è molto più interessante è molto più bello è difficilissimo però però è più difficile però è più difficile naturalmente qua stiamo parlando di un uomo e una donna che insomma ecco si trovano anche interessanti non è che sta anche se si esprimono quasi sempre parlando di cibo e di cucina loro si trovano interessanti e non lo dicono non se lo dicono non se lo dicono a un certo punto si capisce a un certo punto succedono cose ecco succedono cose è quel fuoco lento sì 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 insomma ecco senza voler insomma si può immaginare la storia dove vada come direzione però per un bel pezzo secondo me la cucina è come un esperimento che va oltre che sicuramente va oltre il tema della cipolla nell'olio o del grasso o delle animelle dell'interiore del riso eccetera sì diciamo che dicevi tu è difficilissimo cucinare insieme anche nella vita reale anche tra due persone che si conoscono da sempre in modo non virtuale in questo caso c'è la difficoltà ulteriore di un rapporto che si è creato attraverso il web e che è stato fino a quel momento fino all'impatto con la realtà un rapporto teoricamente perfetto perché si era trovato una chiave per parlarsi e questa chiave era il linguaggio della cucina si era trovato anche un mezzo molto protettivo che è quello della chat per cui si può essere molto molto sinceri ma ci si può anche nascondere dietro lo schermo di un telefonino o di un computer e questo era successo ai protagonisti nel momento in cui hanno cercato e hanno voluto e finalmente sono arrivati a incontrarsi le cose appunto si complicano tantissimo diventano estremamente più interessanti estremamente più complesse ma anche molto difficili appunto perché ognuno dei due ha un sistema di pensiero che poi si esplicita nel modo di cucinare molto diverso ecco appunto abbiamo parlato di cucina 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 la cosa che mi è piaciuta tantissimo nel libro io non sono una grande cuoca per cui ammetto che al di là di seguire le ricette ci sono anche delle ricette la cosa che mi ha incuriosito molto sono i piccoli trucchi che avete che ognuno di due ha nel libro e che svela mi raccomando fai il pane ricordati quella determinata farina farina di forza Elena giusto era? dicevamo Manitoba ma è la farina zero la farina piena di glutine esatto dei piccoli trucchi che poi fanno la differenza qualitativa in cucina intanto vi chiederei uno CAD un vostro trucco in cucina che si può svelare di quelli che si possono svelare e poi appunto come vi è venuta anche l'idea di mettere qua e là delle piccole indicazioni che non sono la ricetta del cucchiaio d'argento Elena il vostro trucco il vostro trucco allora ve ne do due uno in realtà c'è già in uno dei capitoli uno dei primi capitoli che è un capitolo che si intitola tutti i capitoli hanno il titolo di una ricetta risotto pori e scamorza il trucco è il trucco di una persona un po' salutista che è Francesca ma sono anch'io il risotto alla lombarda alla padana si manteca col burro come dice la parola il mio trucco è visto che sono di origine ligure anche un po' toscana e il burro non fa parte della mia cultura gastronomica io lo mantecco con il latte cioè l'ultima acqua del risotto è latte e la cremina viene bene lo stesso è anche molto più digeribile il secondo è quello che si può chiamare il fungo fuiuto la vongola fuiuta cioè lo stesso principio per fare fungo per potenziare il sapore dei funghi in un risotto in una pasta in una spadellata si aggiunge il prezzemolo bene a saperti cioè io l'avevo scoperta non abbiamo scoperto niente di nuovo vuoi i miei due trucchi? assolutamente due uno più che un trucco come dire è un metodo è quello di avere quasi sempre su un fornello un brodo per gestire l'umidità del piatto che sto facendo se faccio la coratella avrò un brodo vegetale o di carne a fianco perché se mi si secca metto un mestolo di brodo se faccio gli spaghetti al ragù di scorfano avrò un brodo di pesce pronto a fianco per saltarli magari tenendo e per gestire quindi come dire la giusta umidità del piatto che per me è fondamentale non deve essere secco non deve essere brodoso evidentemente non deve essere lento un secondo trucco che per esempio potrei dire è il raggiungimento della temperatura giusta dell'uovo per la carbonara l'uovo viene sbattuto nella carbonara e poi dopo ci si mettono gli spaghetti bollenti sopra una grande difficoltà è tenere questa roba cioè l'impasto diciamo dell'uovo negli spaghetti né troppo lento né secco che fa frittata per raggiungere la giusta temperatura io lo metto in un piatto che poi appoggio sulla diciamo sufficiente di larghezza sufficiente a tappare la pentola dell'acqua cosicché si scalda questo piatto un pochino lo tengo qualche minuto l'uovo si pre riscalda l'uovo sbattuto col parmigiano e quindi quando poi ci metto gli spaghetti si rapprende nella misura giusta grazie per i per i pochi così così come me sono consigli preziosi ma voi che vi conoscete da tanti anni da tanto tempo quando avete scoperto di avere questa passione comune da sempre o è una scoperta recente io so precisamente il momento in cui è accaduto ce l'ho molto precisa la cosa quando Elena ti ha invitato a una cena no 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 io diciamo ecco Elena forse dovrebbe spiegare come è nata tutta questa storia e poi io vi dico come poi qual è stato il momento in cui ho detto ma io a lei posso parlare di cucina c'è stato un momento non sapevo che dirle Elena vai non sapeva che dirmi perché in realtà si è vero ci conosciamo da tantissimo tempo ma per tantissimo tempo noi non ci siamo più frequentati non ci siamo più parlati e nel frattempo siamo cresciuti eravamo ragazzini siamo diventati adulti più che adulti e c'è stato un momento in cui per vicissitudini personali Francesco mi ha ricontattato vicissitudini personali mie abbastanza gravi mi ha ricontattato ma appunto non non sapendo più come parlarmi non so per quale intuito ha cominciato a parlarmi a mandarmi a tempestarmi di messaggini che parlavano tutti di cucina di cucina romanesca abbastanza truculenta e io mi sono molto divertita oltre a un po' a sorprendermi perché diciamo non era il momento in cui avessi voglia di parlare di coratella e di cervelli fritti per cui è stato lì che avete scoperto questa passione sì sì perché io le ho telefonato e non sapevo bene che cosa dire la prima volta e ho detto sai sì non so gente a cena stasera tu che stai facendo cose così e le ho detto sai perché farò credo dei tonnarelli alla chitarra e lei mi ha detto ah io ce l'ho la chitarra l'ho usata la chitarra per per fare i tonnarelli è una cosa che hanno in pochissimi e che usano in pochissimi e allora ho detto ma allora tu anche tu e lei ha detto sì anche io e quindi io ho detto siamo parte di un club cioè nel senso che questa donna era diventata una signora milanese e di fatto lo è è una signora milanese no? con i figli cioè io l'avevo conosciuta da ragazzina proprio e quindi io ero un po' inibito con questa signora milanese questa cosa mi ha sbloccato e quindi ho iniziato a parlarle solo di grasso animale si è sbloccato troppo poi alla fine ecco perché questa è un'altra componente del libro la cosa bellissima è che c'è questi questi ci sono questi due poli no? Milano-Roma ed è ed è bellissimo perché le avete calcati senza senza eccedere però appunto c'è il una cucina più sofisticata più attenta alle calorie più salutista e una cucina proprio romana cioè c'è il nord e il sud anche questa questa cosa intanto Elena ha confessato di essere un po' ligure e un po' e un po' toscana oltre che milanese tu Francesco sei proprio romano de Roma? no io ho origine umbre e da lì l'amore per le fettuccine le tagliatelle la pasta all'uovo però la mia romanità dal punto di vista culinario è molto diciamo è decisa cucini così tu? no non è io ecco non è che cucino curatella e animelle tutti i giorni diciamolo mangio anche abbastanza sano per la verità però il vero trionfo il vero trionfo è la cucina giudea e testacina per me cioè sono due territori la cucina romana ha quattro territori quella papalina quella testacina quella giudea e quella antica apiciana ecco la cucina del ghetto e quella di testaccio per me sono un trionfo assoluto il ghetto ha realizzato a partire del 1500 la prima cucina fusion della storia questo è da dire cioè come perché gli ebrei la bolla papale del 1533 e la bolla stabiliva non solo che dovevano stare chiusi nel ghetto ma quello che dovevano mangiare quello che potevano mangiare e loro hanno rafforzato l'identità dal punto di vista diciamo kosher però mediandola con la realtà romana perché quello che c'era era in realtà il cibo romano e quindi diciamo che hanno per la prima volta messo insieme due adesso ho detto per scherzo la prima cucina fusion però insomma hanno messo insieme due realtà e tu Elena sei veramente tu sei fusion no tu sei capace sono venuta a cena da te più volte sono qualche eccelsa e spazi hai una credo che anche questo dipenda da una mia diciamo multipla identità regionale nel senso che sì c'è un pezzo toscano un pezzo ligure che mi fanno prediligere l'olio un pezzo lombardo che invece non è emerso evidentemente ma nonne parmigiane nonne austriache quindi e poi anch'io io stessa mi sono mossa tanto attraverso l'Italia prima poi di fermarmi a Milano e quindi da ogni posto in cui vado un po' come si diceva dei personaggi che costruisco attraverso le persone che incontro per strada da ogni luogo in cui sono stata ho preso quello che mi è piaciuto e poi l'ho mescolato e quindi sicuramente è un fusion italiano ma per tornare a quello che dicevi prima dei due estremi nei due poli Roma Milano Nord Sud ma ancora di più che Nord Sud stiamo parlando dei due poli cliché Roma contro Milano che sono su un'asse geografica gastronomica e filosofica e i due personaggi in qualche modo li interpretano sono lei tutta raffinatina un po' schizzata un po' nevrotica lui è altrettanto nevrotico ma in altro modo lui è un pacioso secondo me romano poi lei ha la famiglia lui è single cioè ci sono tanti estremi sono un po' come un po' manichèi nella loro nella loro espressione però poi trovano una sintesi la trovano sia a tavola sia altrove sì poi c'è un perfetto equilibrio anche di questo altrove perché anche questa tensione di lei con una famiglia di lui single siete riusciti a mantenere un equilibrio anche in questo caso insomma uno può pensare come la relazione va davanti però lo fa con suavità e comunque con quello Sturmundrang emotivo insomma complimenti anche per quello ma finendo rimanendo un attimo sull'aspetto culinario voi date anche tantissime indicazioni di vini con una una cura incredibile gli abbinamenti chi è stato il vostro consulente? Francesco tu stesso Francesco sì sì io sì ho un ho un passato di maniaco dei vini ecco è uno strano ingegnere però che scrive che beve che cucina eh beh come dicevo è dove ho buttato l'energia dell'ansia si è si è riversata su questo tipo di diciamole pure ossessioni ecco e sul vino c'è stato in passato adesso sono più più distaccato ma effettivamente ho studiato ho studiato per sommelier ho fatto parte di un gruppo molto molto dedicato a trasferte con degustazioni cieche competizioni insomma è stato un periodo sei tu il sommelier del di a fuoco lento sommelier insomma diciamo ho una conoscenza approfondita del vino ecco sì io bevo in basca cosa? io bevo in basca con molto piacere con cioè con capacità di selezione ma intanto secondo voi a fuoco lento qual è il lettore di a fuoco lento? a chi consigliereste a fuoco lento? prego Elena sono curiosa del parere maschile ma guarda allora io ho dei alcuni uovi lo leggono soprattutto le donne è un libro particolarmente femminile lo vedo dalle presentazioni a cui andiamo l'altro ieri eravamo in uno splendido ristorante a Vicenza pieno e gli uomini avete fatto una cena del libro? avete fatto una cena sì abbiamo fatto ogni tanto le presentazioni quelle in persona non quelle così avvengono nei ristoranti con dei piatti che sono ispirati ai capitoli del libro l'altro ieri è stato strepitoso perché hanno fatto due piatti del libro perché c'era però ecco diciamo che le donne erano un buon 90% dei presenti gli uomini erano tra gli uomini c'erano due ingegneri e comunque diciamo che c'è una secondo me c'è un io li vedo che poi ci troviamo molto bene con i lettori del nostro libro come uomini perché sono appunto sono quel genere lì di di persona cioè persone che hanno che riversano con una certa foga all'amore magari sulla cucina ma non è detto necessariamente sulla cucina su un linguaggio espressivo che può essere anche un hobby insomma non è che necessariamente devono essere scultori o pittori però hanno questo hanno questo ecco non so se mi sono spiegato sì sì chiarissimo per te Elena sei d'accordo sì anch'io sono sono d'accordo sul fatto che sicuramente è vero anche che in Italia sono soprattutto le donne a leggere e a cucinare ancora forse e anche a cucinare ma non è detto però è vero che diciamo oltrepassato il il primo ostacolo dell'individuare in un libro con una copertina rosa e le pentoline una possibile lettura anche maschile l'uomo che ci si avvicina è contento perché intanto non trova un rosa trova una bella storia oltretutto anche con una non l'abbiamo detto un piccolo risvolto tra virgolette giallo thriller come vogliamo diverso e poi trova una passione che è anche e forse soprattutto maschile le donne cucinano per necessità gli uomini cucinano quasi sempre per scelte per passione quindi trovano tante ricette e un approccio alla cucina anche molto maschile perché ricordiamoci che chi apre il bistrò è il protagonista maschile poi lei lo aiuta ecco il bistrò si chiama signora mia e questo l'ho trovato un tocco per chi ha letto il primo è stata una bellissima citazione che veramente consiglio di leggerli tutte e due in fila perché secondo me si apprezzano ancora di più e quello che dicevo prima Ornella è vero questo finisce e ha una chiusa perfetta però rimane questa sensazione di affezione io ormai mi sono affezionata ai protagonisti davvero è come seguire una serie ma questa serie ci sarà ci state lavorando è una cosa che allora noi abbiamo abbiamo avuto notizia dell'altro ieri veramente anche la l'opzione ci hanno opzionato anche i diritti di affuoco lento quindi la serie a cui i produttori stanno lavorando abbraccia una scusate la parolaccia una parabola narrativa che prende tutti e due i libri quindi sì la serie si sta lavorando la serie è casualmente veramente una coincidenza incredibile sono uscito dall'ufficio ho incontrato i nostri produttori sotto l'ufficio perché c'è un laboratorio di post produzione proprio davanti al mio ufficio di ingegneria e tutti e due mi hanno detto sì noi vogliamo assolutamente andare avanti sì sì insomma io mi aspetto il terzo davvero però sarà una edizione privata che mi chiede una scrittura però è veramente rimani rimani attaccato proprio ti coinvolge tantissimo ma come avete fatto materialmente da scrivere i libri a distanza perché sono stati scritti appunto il primo è uscito nel 2019 il secondo quest'anno per cui insomma in un momento anche non semplice praticamente forse leggendo qualche pagina si capisce anche perché sono dei dialoghi che vengono che anche diciamo i dialoghi andavano facevano avanti e indietro e si capisce proprio dalla struttura del modo e del libro che facevamo avanti e indietro partivano e tornavano partivano e tornavano i pezzi non so se sì sì perché non solo i protagonisti sono sull'asse Milano-Roma ma anche noi e questo e questo ha fatto sì devo dire che dicevi del periodo difficile il periodo difficile è stato invece una manna per a fuoco lento perché ha fatto accelerare diciamo la produzione che era un po' andava un po' a rilento degli ultimi capitoli perché con lockdown ci siamo trovati a dove volevamo leggere un suggerirei una conversazione telefonica se se leggeste un esatto un dialogo una conversazione di Francesca e Fabio sceglietela voi io che non so scegliere sarei qua indecisa perché ce ne sono tantissime alcune emozionantissime alcune divertentissime per cui a voi la scelta ne vorremmo leggere due una su una ricetta che in qualche modo suggerisce il titolo che è quella ricetta del pane perché a fuoco lento a lenta lievitazione insomma la metafora è sempre quella di una cosa che piano piano cresce e poi da un risultato e poi un'altra che fa molto ridere secondo noi io leggo le cose che dice Fabio e Elena legge le cose che dice Francesca facciamo le voci allora è una mail vado? sì è una mail da Fabio Colucci a Francesca Frigerio oggetto grandi novità 5 febbraio 2018 cara Francesca ho bisogno del tuo consiglio per ragioni che a tempo a suo tempo molto presto ti spiegherò mi sono messo a fare il pane per me è una novità mi è capitato di mangiarne di fatto in casa e non ho potuto non notare quanto sia diverso da certe pagnotte un po' gommose che talvolta ti rifilano panettieri e ristoratori e quindi ho deciso di provare anch'io ci metto impegno ci metto fantasia però i risultati per quanto mi applichi sono piuttosto deludenti alle volte è crudo alle volte non mi lievita alle volte lievita e cuoce ma viene troppo duro dove sbaglio è il lievito io uso il lievito di birra è la farina farina bianca a Manitoba va bene il forno la temperatura aiutami ti prego voglio assolutamente imparare Fabio da Francesca Frigerio a Fabio Colucci oggetto pane impegno e niente fantasia caro Fabio prima di tutto stai calmo tutta quest'ansia alla prestazione non è da te soprattutto non è dalla Maria che ricordo e poi il pane ha bisogno di tempo di tranquillità di cura ti ricordi quando mi hai parlato del cacio e pepe dicevi che l'estrema semplicità del piatto in fondo è pasta con il formaggio lo rendeva al tempo stesso difficile per via del suo equilibrio instabile beh il pane come il cacio e pepe è paradigmatico la semplicità degli ingredienti acqua farina e lievito ne rendono difficilissima la realizzazione o perlomeno il pane è difficile da fare bene anch'io ho fatto almeno una decina di tentativi prima di poter dire di saper fare il pane e non sai con che fatica cito innanzitutto la legge numero uno di tua nonna Vanda che mi hai scritto tempo fa se vuoi fare bene una cosa stai lì in questo caso il senso è più ampio si tratta di uno stare lì che si sviluppa nell'arco di giorni e settimane di tentativi costanti a pensarci bene somiglia un po' un corteggiamento attenzioni continue determinazione fatti ma a differenza del corteggiamento anche se vista la mia scarsa esperienza in materia non saprei me lo confermerai tu che invece di esperienza mi pare ne abbia molta con il pane devi adottare un metodo sperimentale cambiando ogni volta una sola cosa per capire dove stai sbagliando viene gommoso fallo lievitare di più ma usa lo stesso lievito lo stesso tempo di cottura e la stessa farina è ancora umido poco lievitato prova a cambiare il lievito è venuto bene rifallo esattamente così e vedi se è stata una botta di fortuna se hai indovinato la perfetta alchimia il pane è generoso e paziente prima o poi si lascerà conquistare certo se dovessi procedere per tentativi alimentari con una donna probabilmente ti fermeresti molto prima comunque ti racconto cosa non ho fatto io quando ho imparato non ho utilizzato la macchina del pane me l'aveva regalata mia madre perché alla fine si è rivelata inutile dato che mi piace fare l'impasto a mano e affondare le mani nella pasta mi rilassa non ho raccolto consigli in giro per il web sai quanti psicopatici si incontrano online mi sono confrontata soltanto con un amico che era un asso della lievitazione lenta solo che attraverso il pane il nostro rapporto è diventato quello che tu ti divertiresti etichettare un po' insidioso anche se del tutto innocente ciao Fabio tienimi informata mi ero mutolita però devo dire che questa è una delle parti che ricordavo anch'io e che ho messo in pratica vi confesso è venuto il pane? sì discreto devo capire dove ho sbagliato passiamo alla telefonata sì abbiamo una lettura sì sì assolutamente questa è un'intercettazione telefonica la guardia di finanza intercettava le telefonate tra i due per motivi che non sto a spiegare c'è una coincidenza per cui finiscono dentro un'indagine i due per cui questo è il verbale di intercettazione leggo e poi partiamo con la nella comunicazione inviata al pubblico ministero riepilogativa delle intercettazioni effettuate rispetto alle quali si richiede un'ulteriore proroga di 15 giorni per mantenere e continuare l'attività di captazione telefonica il capitano Fernando Incardona riferisce del contenuto della conversazione intervenuta in data 20 aprile 2018 conversazione telefonica delle 18 e 15 l'indagato Fabio Colucci chiama la Francesca Frigerio di cui si riferisce nel rapporto in calce Frigerio ciao Fabio dimmi Colucci Francesca ciao ho un'idea per la tua cena Frigerio ok ma sento in sottofondo una musica che non mi è del tutto nuova che cos'è? Getro Tal conosci? certo adoro il loro pezzo la bourree ottima notizia per domani fai le animelle al forno con un bel rosso no allora senti qua curatella e carciofi stagione perfetta no ne ospiti milanesi ti pare che mangino polmone e cuore? ti sei trasferita a Roma da neanche una settimana e già parli romanesco e dici noni è un'espressione da donna trasteverina come non esistono più chi te lo ha insegnato? Tiziana l'amica che mi ospita te la devo presentare è molto simpatica pure single allora cosa posso fare? piatti politically correct per favore la coda la coda